...del suo binario generale, su eccellenza, lo signor Mario Tempini, questa è il figlio della manotta pellegrina che arriva da Fatima, con l'autorizzazione del Vettore del Santuario di Fatima e la concessione della semeteria di Stato Mancana. Accogliamo questo nuovo curatore, e mettiamo le sue parole, le ombre e le preghievole. E chiamano per farci suoi vicini alla semolina del Signore Gesù. Vediamo. O Maria, benedetta della bellissima, madre della grazia, per te, ascente, la nome della Chiesa, figlia, preghietta del Padre, raccogliendo l'annuncio dell'Angelo, hai tu per algo alla salvezza dell'uomo, e la Creatura, lo preghie di nuovo al Creatore. Madre di Gesù, figlio di Dio, questo legno nel cuore la parola, hai mostrato la via della salvezza, in te l'uomo si dischiude alla buona modella. Sposa l'uomo amata dello Spirito, ricevendo nel credo il verbo di Dio, hai dato al mondo la vita. in te l'uomo diventa il cuore dell'Eterno. La tua abilità a sintonare, la tua materna intercessione, questa immagine di Nostra Signora di Padre, ma ne notamente ricorda. Madre, mia doncia, vergine o ammatture, il tuo intervento sorride alla nostra subita, a noi, alle nostre famiglie, alle nostre comunità, a tutti i fratelli di fede, ad ogni uomo, la tua misericordia, ondella, pace e salvezza. Implora per noi dal Padre, la piena valgenza di Cristo, i nomi dello Spirito, la protezione dalle esiglie e la liberazione dal male. Fa che viviamo con te il regno del Signore, regno di onde perenne, regno di justizia e di pace per tutti e per sempre. Amen. e inscrizione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.